Non c'è solo l'emergenza gas, l'approvvigionamento idrico è per San Marino questione estremamente seria e se il tema energetico, come afferma il segretario di Stato Teodoro Lonfernini, è il problema dei problemi, la siccità non lo è da meno. Stiamo andando verso il livello di guardia massima, avverte, le capacità scendono di oltre un migliaio di metri cubi al giorno, il meteo non aiuta, gli acquazzoni di breve durata non risolvono il problema. Lonfernini fa quindi appello al senso di responsabilità dei cittadini, aiutiamoci tutti. La nostra capacità di approvvigionamento per la stagione in corso e soprattutto per il prossimo mese dovrà essere dettata anche da un fattore comportamentale dei nostri concittadini di aiuto al sistema e quindi invitiamo chiaramente tutti i nostri concittadini a poter fare una accurata attenzione a quello che è l'utilizzo della risorsa idrica, questo sia che riguarda chiaramente le utenze domiciliari, le utenze industriali e di ogni altro comparto e settore del nostro paese. Si rischia il razionamento? Può essere un'eventualità sulla quale dobbiamo lavorare, per il razionamento interno chiaramente ridurre la capacità da parte delle nostre utenze di ricevere chiaramente la risorsa, il che significa che non lasceremo nessuno senza acqua, ma al momento la situazione è molto critica. Sul gas invece in arrivo un piano di emergenza nazionale per i prossimi mesi ed anni, indipendente dal contratto stipulato e che viaggerà in parallelo con quello che dovrà emettere l'Italia. Il piano nazionale prevede chiaramente prima di tutto una grande fotografia rispetto a quello che è la gestione attuale, rispetto a quelli che sono gli scenari chiaramente internazionali che viviamo di conseguenza e abbiamo posto delle circostanze di intervento, di gestione delle nostre risorse che riteniamo assolutamente compatibili, prima di tutto con la logica di bilancio, secondo con una capacità di approvvigionamento che il nostro paese deve guardare. L'Onferdini parla poi della sospensione da parte del Consiglio giudiziario di un commissario della legge, si tratta di Alberto Buriani, aveva suo carico, dice, procedimenti ritenuti in conflitto con un andamento ordinario da operatore del diritto della giustizia nel Tribunale. Il governo, continua L'Onferdini, ne prende atto, ben conscio dell'importanza di questa decisione.